Turbogas a Presenzano, dobbiamo essere tutti uniti in questa battaglia per la salute dei cittadini molisani e campani, lo afferma Vittorio Nola, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, che ha partecipato all'assemblea pubblica convocata dal sindaco di Presenzano sul tema della turbogas. Edison vorrebbe infatti costruire una centrale termoelettrica proprio nelle strette vicinanze della piana di Venafro, zona che vive in una ormai evidente situazione di emergenza ambientale che andrebbe ad aggravarsi ulteriormente. Ho mostrato e spiegato in sala, afferma Vittorio Nola, uno schema molto chiaro guardando la mappa del territorio, risulta molto semplice comprendere l'impatto negativo sulla salute pubblica e le coltivazioni agricole che avrebbe la realizzazione di quest'opera. Sarebbe il quarto stabilimento industriale nel raggio di 20 chilometri rispetto agli altri tre già operanti che sono l'inceneritore della CEA San Vittore, la Colasce a Sesto Campano e l'era ambiente a Pozzilli. Adesso, conclude Nola, bisogna insistere per chiedere una via valutazione di impatto ambientale complessiva che tenga conto del cosiddetto fattore di pressione, uno strumento utile per bloccare le attività di rilevante impatto negativo sull'ambiente e inoltre strettamente necessario chiedere una moratoria delle licenze di costruzione fino a quando non si conosceranno gli esiti dello studio epidemiologico commissionato da Comune di Venafro e a cura del CNR di Pisa sull'inquinamento attuale della piana di Venafro.